Gli ingredienti per fare il rotolo di frittata farcito sono 6 uova, 150 g di tonno in scatola, 100 g di maionese, 3 cucchiai di formaggio, sale e pepe quanto basta Aprite le uova, mettetele in un piatto, aggiustate di sale, pepe e formaggio Con l'aiuto di una forchetta sbattete il frutto amalgamando tutti gli ingredienti In una teglia di 25 cm di diametro ricoperta da cassa da forno versate il composto ottenuto e livellate Cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi centigradi per circa 20 minuti Versate e livellate la maionese su tutta la superficie lasciando i bordi liberi Aggiungete il tonno sbriciolato Con l'aiuto delle mani arrotolate su se stessa la frittata facendo una leggera pressione con le mani Mettete in frigo per un'ora Affrettate e servite a tavola Se questa ricetta vi è piaciuta vi invito ad iscrivervi al mio canale o a lasciare un like Un grazie in anticipo